Una spesa completa a 15 euro. Conta su di noi. Da DeSpar, Eurospar e Interspar trovi S-Budget, i prodotti che mettono sempre al primo posto il risparmio. E oggi è ancora più conveniente, con prezzi bassi e bloccati fino al 25 settembre. Dove c'è S-Budget c'è risparmio. DeSpar, Eurospar e Interspar. Il valore della scelta.